Categoria Catastale C2 e abitabilità. Parliamone. La categoria Catastale C2 include magazzini e locali di deposito. Viene assegnata dall'Agenzia delle Entrate e può riguardare depositi, soffitte, fienili, cantine e così via. Questi spazi possono essere adibiti a diverse funzioni, come ad esempio il contenimento di merci, stoccaggio di prodotti o persino fienili. Per comprendere appieno il concetto di C2 e abitabilità, occorre fare un passo indietro sul concetto stesso di abitabilità. Con questo termine si intende l'idoneità di un immobile ad essere abitato, secondo le disposizioni di legge. Dal punto di vista legale, non è possibile abitare all'interno di un locale accattastato come C2 e non è nemmeno possibile richiedervi l'assegnazione di residenza anagrafica. Ed è proprio per questo motivo che l'abitabilità non è richiesta per stipulare l'atto di un magazzino. È importante precisare anche il concetto di pertinenza. Un magazzino C2 può essere collegato ad un immobile principale. Inoltre, con i lavori adatti e una richiesta di modifica catastale, è possibile trasformare un locale C2 in un immobile abitabile, ovviamente in base ai regolamenti comunali.